Ciao Astronomers! EZATO è il nostro focuser robot che è disponibile in diverse dimensioni, per provare con la migliore soluzione di focus per telescopi. E ora è disponibile anche in una versione più compatta e leggera, perfetto se il tuo telescopio ha un più corto di focus. Benvenuti a EZATO 2 Inches LP! I telescopi diversi possono avere molto low backfocus, che è la distanza suggestiva da un corretore ottico al sensore del camera, quindi in questi casi un focuser low profilo è quello che bisogna. Uno dei più diffusi sul mercato è l'Edge HD 8 Inches OTA, che è un telescopio all'around telescopio per la fotografia digitale, ma rispetto ai modelli di diametre, si chiede per un shorter backfocus, 133 mm senza l'optional 0.7 reducer, e 105 mm con il reducer. Ma il nuovo EZATO 2 Inches LP! Low Profile Robotic Focuser, proviene la migliore soluzione anche per questo telescopio, perché il suo design speciale permette di attaccharlo al real thread senza toccare le primary mirror lock knobs e il manual focuser, anche se poi aggiungi un fine focuser. Since l'EZATO 2 Inches LP! Low Profile Robotic Focuser, proviene 2 Inches Free Aperture in giro. Dopo il focuser, troverete abbastanza di spazio, anche se vuoi collegare il nostro rotatore Arco 2 Inches Aperture, o i treni di immagini complessi, con camera e diversi accessori. L'EZATO 2 Inches LP! Proviene un'incredibile risoluzione di 0.03 microns per step, USB Type-C port per collegare ai computi e connessione wifi con Wirtel Handpad, e offre 5 kg di capacità di e, ovviamente, se hai un telescopio diverso con le necessità di low back focus, l'EZATO 2 Inches LP! è un perfetto match, permettendo di collegare facilmente connessi grazie ai nostri pre-made adaptori. Grazie a la bassa bassa e la speciale compact design, l'EZATO 2 Inches LP! Low Profile Robotic Focuser è la perfetta soluzione per l'Edge HD 8 Inches e altri telescopi con l'EZATO 2 Inches LP! Low Profile Robotic Focuser! Esatto!